La signora è stata da noi supportata, è anche una vecchietta simpatica, quale sia il motivo perché qualcuno ce la fa e qualcun altro no, ovviamente ancora oggi non lo sappiamo. E' una sfida che abbiamo vinto, abbiamo vinto una battaglia ma sicuramente non abbiamo vinto la guerra. Oggi è una giornata bellissima perché la signora sta andando a casa guarita e abbiamo visto pure che è in condizioni buone, anche spiritosa, ha fatto qualche battuta, è cosciente, si rende conto di dove si trova, dice di non voler andare in un altro ospedale ma a casa. Sono momenti per tutti i malati che sono in quarantena, che sono chiusi negli ospedali, momenti brutti e quindi il tornare a casa è una cosa molto 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 bella. Grazie. 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 Grazie.